Non ce l'ha fatta Caloggera Lomonaco, 98enne battipagliese, deceduta nelle scorse ore a Battipaglia. L'anziana aveva cominciato il suo calvario nelle scorse settimane, quando negli ospedali salernitani non fu possibile reperire un posto per ricoverarla e fu costretta a raggiungere l'ospedale Ave Grazia Plena di Piedimonte Matese, da cui è stata dimessa lo scorso 2 gennaio e poi ieri è deceduta. Il primo posto letto per curare la donna negli ospedali della campagna venne fuori dopo 41 ore, passata in pronto soccorso, distesa parola dei suoi cari su una barella adagiata in una sorta di stanzino di servizio, senza alcun apparecchio, soltanto un armadio con dei medicinali. Nella vicina cardiologia, cuore del dea di Eboli, non c'era posto per lei, nel salernitano neppure. Poi il 21 dicembre venne fuori una disponibilità a Piedimonte Matese. Le hanno curato la polmonite, ma per il cuore non c'è stato più nulla da fare. Domenica pomeriggio le insufficienze respiratorie sono aumentate e ieri calogera lo monaco è morta.